ciao ragazzi 365 giorni con vale faccio vedere questo bellissimo orecchino vedete la pietra gialla poi dopo diventa verde verde più scuro e poi dopo blu guardate quanto è bello guardate quanto è bello quasi quasi me lo metto domani molto 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 carino e con questo è tutto ciao a domani